Da lanciare a Barbacetto, Barbacetto, occhio però perché prima si poteva dire magari che non sapevano come amministrare Roma, anche se avendo amministrato una città, anche chi amministra un condominio sa che ha bisogno di trovare dei collaboratori, che ha bisogno di nominare dei dirigenti, eccetera. Il problema è che la prossima elezione pare siano le politiche, cioè non vorrei che ci trovassimo di fronte a un paese nel quale quelli che dicono che vinceremo le elezioni poi dovessero andare al governo, ci fanno piombare in una situazione che è tale e quale è quella della gestione di Roma, con liti interne, difficoltà a trovare tizze. Ma guardi, mi è arrivata oggi la lettera... Cioè gli indizi, più indizi fanno una prova. Mi è arrivata oggi la lettera...